Franco Dischi, Managing Director Notifier. Quali sono le strategie che l'azienda sta sviluppando in questo periodo, soprattutto viste la situazione economica? Noi stiamo cercando di attrezzarci contro la crisi perché siamo convinti, secondo un noto punto di vista, che la cosa purtroppo non si risolverà in tipi brevissimi. E quindi è necessario che noi, senza aspettare l'aiuto di nessuno, ci mettiamo nell'atteggiamento di dover convivere con questa situazione. Sostanzialmente il mercato dell'antincendio, che è il nostro core business, non ha subito delle flessioni importanti. È un mercato che cresce poco, però cresce. Noi invece come azienda siamo cresciuti anche negli ultimi 3-4 anni di crisi parecchio, però abbiamo cercato di andare verso altri settori. Chiamiamoli settori adiacenti al core business. Questo vuol dire, invece di fare solo la parte fire, fare anche tutta la parte security, fare tutta la parte building management, che sono tutte cose che già troviamo all'interno del gruppo Aniwell. E quindi noi abbiamo solo cercato di mettere assieme tutta una serie di competenze, di tecnologie, utilizzando le persone adatte per arricchire la nostra offerta nei confronti dell'installatore. E questo ci sta dando parecchio ragione. Insomma, quindi la nostra azienda funziona bene, il business si allarga, c'è un po' il problema che hanno tutti, che è quello della sofferenza per quanto riguarda i crediti. Però anche lì, visto che non si può cambiare, cercheremo di adattarci il più possibile e quindi cercare di fare un po' di scelta sul nostro cliente. E se proprio vediamo che il nostro cliente versa in condizioni non buonissime, diciamo che non sarà un nostro cliente, ne cercheremo un altro. Sempre positivo il Presidente. Per quanto riguarda linea di prodotti, lei appunto diceva building automation, che si sposa bene con tutto, dato che siete in Aniwell. Qualche novità particolare? Diciamo che abbiamo raggiunto un accordo con Dalmaier, che è un'azienda prestigiosa nel campo hotel TV circuito chiuso. Noi abbiamo scelto Dalmaier, o Dalmaier ha scelto noi, insomma ci siamo scelti a vicenda perché noi operiamo normalmente su un mercato medio alto, dove il prezzo sicuramente è fondamentale, è molto importante, però essendo un prodotto che va insieme, tutta un'altra serie di prodotti che sono con un contenuto tecnico molto elevato, noi abbiamo necessità di non interrompere questa catena e quindi tutti questi prodotti che noi proponiamo a livello di soluzione devono avere lo stesso grado di sicurezza. e quindi voglio dire, magari non siamo i più a buon mercato, diciamo sul mercato, però sicuramente il nostro obiettivo è mantenere e conservare un livello qualitativo superiore. ecco